Sì, allora, sono qua a Marina Bike, non si sente nulla, comunque stiamo tentando di fare una prova, questa sera siamo di fronte a tre, due, quattro, con il top fuel, cioè sei atti di carne a tempo. Solo di carne, perché poi mettendo tutto insieme, il gruppo carne, il gruppo carne, il gruppo carne, il Shimano 600, il Shimano 600 di carne, il gruppo Shimano, la mare di Tony, la mare di Tony, la mare di Tony. Sì, allora, sono qua. Sì, allora. Sì, allora, sono qua. Sì. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti